civil week 2024 in compagnia di greta tombari di ajas ciao buongiorno benvenuti a tutti siamo a san donato ancora un evento di san donato per la civil week sono andato più di eventi sì esatto ci sono tantissimi eventi tra sandorete il comune molto collaborativo in particolare noi abbiamo due attività che si svolgono praticamente quasi in contemporanea sia artistiche che riguardano la ciclofficina quindi stiamo cercando di collaborare per arrivare all'obiettivo finale che è la domenica quindi la bici civica dove noi porteremo le nostre targhette fatte dai nostri ragazzi le targhe per la bici civica tante biciclette che potranno avere la taglia della civil week ma cosa sono queste targhe queste targhe abbiamo pensato appunto per unire due nostri progetti che sono il laboratorio di arte che tra poco vedrete e la ciclofficina che ha il titolo di biciclettiamo appunto e per unire questi due progetti abbiamo pensato a questa targa che possa unire le biciclette di tutta milano e oltre speriamo con lo stesso tema ovvero quello dei diritti dove i nostri ragazzi poi hanno insomma ognuno ha la propria interpretazione un po più concreta un po più astratta dei veri e propri artisti se non sbaglio non è la prima volta avete già fatto questo esperimento esatto l'anno scorso abbiamo fatto questo questo esperimento la bici civica le è piaciuto molto e ci ha chiesto di farne di farne altre noi siamo partiti un po in anticipo rispetto alla civil week per proderne produrre il più possibile e speriamo insomma di aver raggiunto l'obiettivo e allora insieme a maria dietro la camera andiamo a vedere entriamo e dentro al vostro laboratorio qui dove siamo tra parte si è un ambiente particolare una piazza pedonale entriamo siamo abbastanza visibili speriamo il più possibile dove appunto i nostri ragazzi hanno l'opportunità di esporre i propri disegni sulle nostre vetrine e dove creiamo le le targhette quindi prima le vengono disegnate dai dai nostri ragazzi poi verranno poi plastificate per fare in modo che possano durare nel tempo e bucate in modo tale appunto che possono essere apposto sopra la propria bici allora intanto guardiamo alcune che che sono fatte maria se voi facciamo far vedere appunto alcune di queste targhe che vengono realizzate sono davvero dei pezzi artistici che sono quelli che avete già pronte qua sì esatto quelle già pronte in particolare è nata da un da un'idea ovvero quella della sussidiarietà perché noi come associazione molto importante l'aiuto e l'entrare in relazione con più associazioni possibili e fare rete quindi abbiamo ideato la targa sospesa un po come l'idea del del caffè sospeso quando si va al al bar in modo tale che queste targhette possono essere portate alla biciclettata appunto di cui parlavamo prima e regalate alle persone che magari non hanno avuto l'opportunità di venire qui in laboratorio o di essere in grado di andare sul sul sito di civil week e utilizzare il nostro kit per per fare le targhe perché appunto c'è anche questo c'è uno sta potrebbe fare anche da casa giusto come funziona sì esattamente noi abbiamo creato un kit di strumentazione quindi dove spieghiamo la nostra idea le persone si la possono stampare da casa semplicemente e se la possono colorare e poi venire qui a plastificarle infatti noi oggi siamo aperti a tutta la cittadinanza che aspettiamo in maniera calorosa e allora questo è uno dei tanti eventi delle tante idee che ci sono appunto qui nel comunista nato ma non solo anzi e che unisce l'intra milanese con poi milano con appunto poi domenica vedremo durante la bicicidica tutte queste bellissime targhe della civil week prima di salutarci due parole su di voi aias che cosa fate quando lo fate come lo fate allora aias è un'associazione che c'è ormai da 70 anni anzi proprio quest'anno abbiamo compiuto i 70 anni grazie e noi lavoriamo con la disabilità quindi dai più piccoli soprattutto nelle scuole ma anche con i ragazzi più grandi soprattutto al di fuori delle delle superiori noi abbiamo creato questo servizio che è il tempo libero appunto per fare in modo che loro abbiano un tempo libero di qualità quindi laboratori di arte laboratori di teatro la ciclofficina di biciclettiamo proprio per fare in modo che il loro tempo sia caratterizzato da relazione da condivisione e nelle scuole noi invece abbiamo un sacco di educatori in tutti gli ordini e gradi che fanno in modo che anche all'interno della scuola si possa riuscire con i ragazzi con disabilità qui coi bambini insomma a portare avanti il loro il loro progetto di vita futuro che sarà utilizzando gli strumenti della didattica e l'ambiente che la scuola ci mette a disposizione questa è una delle tante organizzazioni appunto che ha deciso durante la civil week duemila e ventiquattro di fare qualcosa per tutti tante altre le vedremo durante questa civil week duemila e ventiquattro